m lagardai ah o così quasi dai 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 combattete combattete ragazzoni anche ci ho un colcorno oh shika vaffanculo mamma io sono veleno c'è ho la veleno addosso accendino non vedi che ti ho fatto guadagnare vabbè ma tanto vincere dunque Quasi quasi influisco sull'incontro, cioè, butti giù una velena quasi quasi. Chi, la ti va a fare un incontro? No, mi va adesso. E dai! Gatti, Giulia! Ma se ti può... Faccio video, e basta ora. Ma se ti può... Che cazzo vuoi? Io sto salvando! Shika! Shika si intromette l'incontro. Mi ha dato la mano! E sarebbe stato... No, vai vai vai, c'è Shika! Ti vuole tanto! Ti voglio tanto bene! Ops, scusa, ho sbagliato il tuo missaglio! Dai, cioè, fai fuori Shika, poi rifacciamo! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Oh, hai descrittato! Dai, chi la facciamo un incontro, ti prego? Dai, non mi la fai incontro, fai lo tieni! E gioco, vai! Shika! Ecco! Ma che a me mi sbaglio sempre! Shika, ci siamo! Ce l'ho fatto! Vai! Sì, un attimino, un attimino, un attimo! Non ho preso neanche le pozze! Troia sto a minuto! E' scritto un chat che ti amo! E' scritto un chat senza... A diamond in the sky! Perché qualcuno butta per terra le bottiglie che stai... Pronti? Quasi! Quasi! Struzzo! Oh! Gli hai lanciato la veleno? E' che bastardo, ma... Oh, killa! Cazzuola! Eh, cazzuola! Ne ho manco manco preparata, cazzuola! Dai! Allora, porza di forza! Io mi sono un po' tirata colpino, dai, questa volta! Oh, sì! 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 Vado, vado, vado! Dai, via! Vado, 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 vado! Vado, 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 vado! Ma che cosa sei? Finga me, l'Occ... Oddio! Ok. Oh! Almeno DT Cubi ti ho fatto saltare, meno male! Cazzuola rigida, me la sono non dimenticata! Quella non era la reggene, idiota! Lo so! c'è un ultimo pvp che devo andare un attimino ammazza greco cena e poi arrivo qualcosa da mangiare ti vai a compare qualcosa da mangiare compare ti muovi troppo è un po' ferma eh sì certo resta ferma a farmi colpire da te che sono idiota esatto ho vinto per farti sfinire mamma mia ti ho fatto sfinire alla fine cazzo mi sta loccando mangi tu mangiare ecco ma tu fly tu fly che palle parca troia Samir no ho sbagliato rischio non so che io so così mi sei tappellinati entrambi no fermi infacile veramente infacile non so ma tu prima mi hai rotto anche l'elmo eh sei senza elmo adesso ma me l'hai rotto durante il combattimento oppure durante l'fk mentre eri fk ma fa culo perché sono gentile s ma e lui mangia ma da quanto tempo lo ediliziamo? hai perso il caschetto no cazzo sto per morire no 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 tu morire tu morire anch'io anch'io maledetta dove sei? ma perché si muove così tanto? aiuto adesso oh maledizione no aspetta ti ha battuto anche il greco genova si e io stavo perdendo io non ho perso neanche l'elmo si greco genova è più forte di te ma fa culo dai dai adesso facciamo facciamo un altro pvp vediamo se almeno questa volta riesco a romperti l'elmo sei pronta? no suicidiamoci wow tu fa il video però eh mamma mia un cazzuola io cosa ho fatto no no non lo fare che stai per dopo facciamo tutto a figura no no mi piace lì c'è anche c'è anche la paura di perdere contro di me ma ti pare possibile contro di me sei su che è di camera andiamo ora utilizzerò i trucchi di spruzzman cioè non trucchi le tattiche i trucchi di spruzzman questo non mi piace affatto quando dici trucchi è bruttissimo non ti la secondo me sta usando anche la barra spaziatrice pinica non mi sta usando con 3 tastiere non sta usando con 3 tastiere o qualcosa del genere insomma accendiamo mi usa 2 mouse non mi vuole making verb usa 3 tastiere non ti la cazzo non si usa 3 tastiere ma non ho senso non ho senso non ti la ma guardalo no 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 oh sono trucchi questi sta cittando, 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 no no no, mai vieni, io robò, capito Mekin, spegnela a letto, ma non stavano per lo nome, c'ho maltedro pneumatica che sta battendo sul tasto dell'attacco, no non si citta così però bastardo, Mekinweb sta vincendo cittando, fai schifo, ma non sto cittando, stai cittando, si certo, usa tre tastiere, è bastardo, non è il tuo, è una classica, ma io evito i colpi e poi lo colpisco da dietro, non capisci, è questa la mia pratica, ma tanto vince sicuro perché ho finito le poche, ma come è che poi non riesci mai a colpirlo da dietro, e stavolta è lui ad averti colpito da dietro, io non sei, sta facendo, Greco queste non sono belle cose da dire, ma ragazzo ok mi vado a mettere nell'angolino, ecco vai, in punizione, aspetta scappa, scappa oh, sto stanno in punizione eh no, spiega, è in punizione a dirmi queste brutte cose oh, è smesso, beccati questa che bastronzo, che bastronzo proprio sentilo come città, sentilo io dio io solo making web, scusa un attimino, quanto si dura mediamente una tastiera? cazzo, ma due contro uno non vuole no, 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 Greco, vattene, vattene, Greco, vattene greco, greco, ferma, si ferma, ti lascia combattere dai, ti lancio una mia reggenda, ferma ferma, ti lancio una reggenda non c'ho io si, certo, ci credo oh mio dio, no, è veramente la reggenda l'ho presa ecco, Shika il pezzo del metto no, cazzo, no, cazzo il pezzo del muscicano lo so vedete che spia azzurra con il testone fuori Shika, come è? ecco, ecco, un po' come hai fatto con me, scusa ma dai, gira, gira, mentre il gamine e muoiti, io la vereno nuove oh, ci ho abbenerato io non ho qualcuno che troia che sei IO? non tu,GLIN-L-Nerd stiamo abbenerando solo tentando di abbenerare me fa schifo mi stavo documento, non è male certo, è certo ah, non è male, che faccio? si vede no, è finito ho fatto il kit si è fatto il kit e che cazzo come il slider? no mi sono autospezzata no mi sono a ah ma io non stavo manco correndo no non c'ho, non c'ho nella powerful and allow swiftness chi è che mi ha beccato con la velevo? quello stronzo di kill nerd aiuto aspetta che adesso carico il video ma infatti ti sei presa di come il kit no, sono stato una volta aiuto è nell'angolino chica è nell'angolino per un attimo l'ho lockato non sicura si un po' prima volata dai che ti fa meglio a prendere la pizza cazzo cioè le poche volte che lo colpisco colpisco anche me ti auto colpisci da sole questo è mi auto a velevo lo sapete come chiamano quelli di vengardo questi incontri così tuffi scorretti come? scorretti mi auguro mi ha detto muori ah da chi dà sono sicks ho sbagliato faccio da mio ombre dai infatti dal uo dà chi ha notificato? dà non c'era che cosa ha fatto? l'ho sponato ecco Eccola qui! Oh mio Dio! MAKING! Ha spawnato! Eccola qui! Quanto sei... No, eccola! No! Ho rispawnato un'altra volta! Fra 5 minuti... Fra 5 minuti vi do il link! Ok, un altro giù. Oddio! Guarda qua! Ma come va feroce poi, è stronzo! Vieni qui, va stranto! Vuoi morire? Che c'ho fame! È passato un quarto d'ora! Questo video qui ci vuole tutta la notte, cagallo! Ah, che appena è nato! Che merda! Sieni qua! Ma che fai? Lui citta! Mi sento a poteri! Io citta! E ti fa un altro 50 volte e ti sei preso 30 kit! Quando non fai una donna vuol... È difenderti! Difenditi dagli abusi di me! Anche tu ti sei preso un bel 50 kit però eh! Ma che cazzo dici? Cioè non puoi avere così tanto istante! Ecco visto! Oddio! Il mio figlio! Hai visto che sei oltremmo subito appena l'hai detto? No! Non ci credo! Making sei una pippa! F2 screen screen! Tutti fate screen! Faccio screen! C'ho 4 video! Meglio di così! Che merda! Così si è realizzata! Quel video proviamo tutto! E' Making in chiamata! Aspetta! Un attimino! Voglio... Vorrei ringraziare mia madre per avermi partorito e avermi dato la luce così posso aver dato esperienza di questo bellissimo momento! Vorrei ringraziare l'Accademia! Ma... Ma... Ma non fa culerci! Vorrei ringraziare Making Web per essere morto come una puttana! Vorrei ringraziare... Vorrei ringraziare tutti quanti! E vorrei ringraziare Killaner per aver fatto il cronista stronzo! Il cronista stronzo! E' stato bellissimo ragazzi! Eccomi! Dalla banda di 4k è tutto! Ciao a tutti! grazie